E completamente differente da tutto quello che abbiamo mai provato in Valorant Fracture, la nuova mappa, indubbiamente porta una ventata di novità. Appunto, per cercare di comprenderla al meglio, non entrare nella mappa e non capire assolutamente una bega di quello che troveremo, ho creato questa piccola guida, si tratterà di proprio piccoli tips, strategie, lettura della mappa, consigli, posizioni, alcuni consigli sulla mira, dove stare, gli angoli, insomma, una lettura importante che ci aiuterà senza ombra di dubbio a entrare in Fractures e non morire all'istante, perché sicuramente con tutti gli angoli che troviamo in questa mappa, morte certa arriverà per tutti i player che non conoscono questa mappa. Amici, che dire, un altro video qui di Esporti Tapation sulla nuova mappa Valorant Fracture. Benvenuti! that's something so small can create such opportunity. Their efforts were noble, but sacrifices must be made. Ah, such a pity. Ci siamo gustati il trailer ed è meraviglioso, meraviglioso senza ombra di dubbio Ma forse adesso che ci siamo eccitati vorremmo subito entrare nel gameplay Calma ragazzi, calma, come ogni cosa prima di buttarsi a capofitto e fare e agire Forse è meglio prima leggere E una delle cose che sicuramente più ci ha aiutato in tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme Io, te, voi su Valorant è quello di prendere la mappa, buttarla su Paint e iniziarla a studiare Ragazzi, dopo andremo nel video di gameplay per appunto poter leggerla e capirla proprio con un riferimento davanti agli occhi Ma già la piantina in sé per sé indica una cosa solo Porca miseria quanti cavolo di angoli non ci sono E soprattutto, non so se notate, ma la simmetria che di solito era presente in tantissime mappe E sopravvisamente non ci sono più Se noi dovessimo appunto tagliare il site A con il site B Scopriremo che dal punto di vista grafico Ma anche dal punto di vista di come sono fatte le cose C'è davvero un'enorme mastodontica differenza Per cui se noi ci troviamo nel site A dovremo indubbiamente comprendere appieno cosa ci offre il nostro site Stessa cosa vale per il site B E quindi dobbiamo studiare le posizioni e il nostro ruolo in maniera molto molto dettagliata In questa mappa essenzialmente però manca un dettaglio molto importante Che sicuramente creerà dinamismo, movimento in appunto Fracture E sono due zipline, ok? Due zipline di cui parleremo fra qualche secondo Continuiamo in una lettura proprio leggera leggera di Fracture E capiamo immediatamente che è una mappa velocissima È una mappa molto veloce ragazzi Perché se noi dovessimo fare un tragitto semplicissimo Andiamo a farlo col viola Noi siamo nel site A Qua c'è un piccolo bivio Ma possiamo fare anche tranquillamente così Noi scopriamo che possiamo arrivare dal site A al site B Velocemente in maniera centrale in circa 15 secondi Ed ecco quindi che ci dà già un'indicazione Di come gli sviluppatori hanno voluto portare avanti questa nuova mappa Non è qualcosa che abbiamo già visto Icebox era molto lunga Con tantissime linee di tiro E tantissimi box in mezzo Le altre in qualche maniera erano abbastanza bilanciate Sia per quanto riguarda punti di tiro Ok linee di tiro con i cecchini E luoghi angusti Mentre questa è stata sviluppata appositamente Per essere molto 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 veloce Immaginiamoci di fare un pic da questa parte Ok Oppure di dover cambiare improvvisamente Facciamo un pic da una parte Vogliamo cambiare improvvisamente E andare dall'altra Capite che l'idea degli sviluppatori In questa mappa è stata Adesso voglio vedervi giocare fast Cambiare site fast Ed ecco perché sono state messe le zip line Andare da una parte all'altra della mappa In maniera estremamente veloce Ed ecco perché essenzialmente C'è la parte centrale Che aiuta davvero tanto I player ad arrivare velocemente Da un punto all'altro Appunto di fracture Cos'altro posso dire leggendo così Beh amici Che le linee di tiro Non sono così tante Ebbene sì Questo che vedete è un Un oggetto solido Ok Una delle linee di tiro Migliori che possiamo avere È questa Sicuramente c'è anche Di chi si trova nella zip line E arriveremo fra pochissimi Pochissimi secondi Un'altra linea di tiro Può essere questa Ok È un'altra linea di tiro Può essere questa Perché non ve ne sto indicando altre Come ad esempio questa Oppure Se non vado errato Questa Beh lo scopriremo Quando entreremo nel video Questa mappa Fa dei sali e scendi Uno dei punti chiavi Del perché Secondo me Poi sarà da vedere Come si evolve I player Come la vorranno utilizzare I fucili da cecchino In questa mappa Non vi aiuteranno Neanche lontanamente Dopodiché Come andremo a vedere Dopo nel video Anche chi prende la zip line Essenzialmente Si trova davanti A un bivio È vero Vi permetterà di arrivare Da un punto All'altro Della mappa In men Che non si dica Solo Cinque secondi e mezzo Se non vado errato Ma sarete Dei piccioni Senza ali Che si muovono In linea retta E che sono facilmente Piccabili Perché si ragazzi Se noi ci troviamo Qui in questa posizione Sta arrivando un nemico Noi possiamo già vederlo Più o meno Circa o meno Quasi Quando lui È qui Altra cosa Che dovete sapere Sulle zip line È che le zip line Possono essere prese Solo in un senso Ok Quindi Questa zip line Farà solamente Da questo versante A questo E questa farà Da questo A quest'altro Non è possibile Invertire Appunto Il loro senso Voglio vedere Sarebbe da provare Con un po' di pazienza Ok Se si può fare Un saltino E provare Andare Ad esempio Da questa parte Appunto Perché Hai visto Che qua c'è un nemico Tu sei già arrivato qui E dici No Se vado dritto Muoio Quindi L'unica opzione Che posso fare È solamente Fare una bella Inversione Au Si potrà fare Non si potrà fare Nel gameplay Ragazzi Perché attualmente Si tratta di Gameplay Date solamente Ad alcuni player Non è ancora Stato testato Ma indubbiamente È qualcosa Di Che Sarà Da valutare Altra cosa Che mi ha colpito Moltissimo In questa mappa È la presenza Uno Di una porta Estremamente Rumorosa Ebbene sì Questa porta Ragazzi Si apre Si chiude Anche se voi Sparate Quando è chiusa I colpi Non penetrano E dopo vi spiegherò Perché secondo me È molto importante Questa piccola Affermazione Una cosa Che ho trovato Differente Tra il site A E il site B Che il site A È estremamente Grande E ha Pochissime coperture Se non Questi box Ok E il site B È presente solamente In un piano Mentre il site A È diviso In una parte alta E una parte bassa Il che Obiettivamente Se noi Dovessimo Andare a mettere Una spike Appunto Nel versante A Appunto Penso Che se noi L'abbiamo già piazzata E poi dobbiamo difenderla In qualche modo Il site A Ci ha vantaggi Un bel po' Mentre Piazzarla E nasconderla Nel site B E poi Tenere la posizione Del site B Non sarà così facile Anche qui Dopo Ci puntiamo Verso il Il gameplay Per scoprire Un attimino Meglio Di che cosa Sto dicendo Andiamo avanti Con la lettura Della mappa E scopriamo Che questo site È estremamente Grande E c'è solamente Appunto Questa parabola Che dopo Vi farò vedere Che in qualche modo Spezza Questa grande Area Chiamata Dish È un'area Molto difficile Ok Dove Cioè Noi prima Parlevamo Delle linee Di cecchino Non sono Fruibili Sono corte Ok Non vedrai mai Chi sta arrivando Dal punto A drop Ok Perché appunto La parabola È grande Quello che dovete sapere È che la parabola Questa qui Se voi ci sparate In mezzo Il colpo passa Ok Ma se per puro caso Voi siete Questo pallinetto Arancione Che adesso Facciamo qui Ok Qui Molto bene È il vostro nemico Si trova Qui Oppure qui Capite che Non avrete Possibilità Nessuna Possibilità Di salvare La vostra Pellaccia Ed ecco perché Dico Che le zone Così ampie Come ne vedremo Anche qui Ok Anche in questa zona Sono davvero Molto difficili Per ovviare A questa cosa Cioè Che rispetto Che ne so A Icebox Ci sono Meno Container Meno Scatoloni In mezzo Alle scatole Che cosa si è fatto In In Fractures Beh Si sono dati Tantissimi angoli Osserbiamo Semplicemente Questa parte qui Della parte B Bench E Dell'arcade Dove Guardate Gli angoli Guardate quanti angoli Vi ho segnati E li ho segnati Solamente Pensando Di dover Andare dal site A Al site B Da questa parte Ok E ce ne sono Anche qui Noterete che Queste zone qui Sono vuote Le andremo a vedere Poi nel gameplay Ok Quindi voi Non potrete Andare proprio Dritti per dritti Fast Fast Veloci Veloci Così No Perché appunto Non ci sono tante protezioni Nel mezzo L'unica cosa che potete fare E avanzare Angolo dopo angolo Quindi Se siete partiti da qua Controllate un angolo così Poi vi spostate in questo Per controllare Se non arrivi nessuno Dalla parte della zipline Una volta messo lì Allora vi potete mettere O qui O qui In modo tale da Vedere qui O vedere se arriva qualcuno Ancora dalla parte della zipline Dopodiché qua Dovete fare una corsa Molto veloce Posizionarvi qui Dove ho fatto questo puntino Per appunto Iniziare a vedere Se nel punto B Binch C'è qualcuno Dopodiché dovete andare avanti Spostarsi Verso queste scatole Per vedere questa zona Questa zona Per vedere questa zona Questa zona Per vedere questa zona Questa zona Per vedere questa zona O comunque Qua ci sono delle scatole Per vedere Se che non ci sia nessuno Poi non potete ancora andare dritto Dovete utilizzare Questi due angoli Per vedere Prima qui Puoi avere un'idea Ancora più stretta Ok Ed è questo che dico Per ovviare Al problema Di questi rush Estremamente veloci Gli sviluppatori Hanno voluto mettere Nella mappa Tanti di quegli angoli Da diventare Scemi Ed è appunto Quello Una delle cose Importanti Che dovete considerare In questa mappa Dopodiché Ad esempio Qua in questa zona Ok Qua è presente Una specie di scalino Ok E un dislivello Quindi qua Dovete pensare Dopo andremo a vederlo Che c'è appunto Un dislivello Questo in qualche modo Non vi porterà più Ad avere Dei momenti Di sparatutto Dove tu E il tuo nemico Siete sullo stesso livello Quindi hai già la mira Più o meno Circa meno Quasi Ma ci sono Questa zona E questa zona Dove ci sono Dei dislivelli Dove appunto La tua mira Prima si deve spostare In fondo E poi con l'occhio Devi velocemente Passare in rassegna Fino a quando La tua mira Non inizia a inclinarsi Immaginatevi Che voi siete qui E il vostro nemico qui Voi non potete puntare Alla vostra stessa altezza No? Pian piano Dovrete In qualche modo Portare la vostra mira Da un punto Molto più lontano A un punto Molto più vicino Anche se Obiettivamente Come consiglio Vi dico Di partire più Dal punto più vicino E poi dal punto Più lontano Ma questo Ci arriveremo In un altro In un altro video Anche se In alcuni Credo di avervelo Già consigliato Vedete cosa Parlavo degli angoli Ora vediamo Semplicemente Che ne so Un pic Di B Versus A Ok? E iniziamo a segnare Più o meno Circa Meno quasi Quali potrebbero essere Gli angoli Che possiamo Andare ad ottenere Guardate Abbiamo questi angoli Ok? Beh questo è più un angolo Per chi va in attacco Ma abbiamo la possibilità Di questi angoli Questi angoli Questi angoli Questi angoli Questo angolo Questo angolo E potremmo fare L'inverso Essenzialmente Per la parte Opposta Hanno questo angolo Per vedere da questa parte Poi hanno questo angolo Per vedere da questa parte Hanno questo angolo Per vedere da questa parte Hanno questo angolo Per vedere da questa parte Questo angolo Per vedere da questa parte Questo angolo Per vedere da questa parte Insomma Un botto e mezzo Di angoli Volete Dominare Questa mappa? e allora vi consiglio caldamente di mettervi sotto nel comprendere come si utilizzano gli angoli in Valorant perché credetemi sarà per voi essenziale ed ora entriamo nel gameplay, è esattamente quello che vi avevo promesso e vediamo un secondo se il signore si gira, no devo un attimino tornare indietro di come è composto il Saita e vi dicevo appunto che secondo me il Saita per via del fatto che abbia questa parte sopra dove voi potete mettere la spike vi ricordo e questa parte sotto, ok, tra le due quella che mi permetterebbe una volta piazzata la spike di poterla proteggere meglio e senza ombra di dubbio la parte sotto, ok, che mi dà anche una protezione e inoltre quest'angolo è estremamente estremamente grande è una cosa molto diversa da quello che troveremo in B altra cosa, badate bene a cosa trovate e soprattutto a questi colori a queste specie di, potremmo dire, pareti queste pareti, così triangolari, luccicanti, voi ci sparate? ebbene il colpo passerà attraverso mentre nelle parti, quelle metalliche, ovviamente il colpo non passerà sembra una cosa da niente? è una cosa importante e che sicuramente dovrete valutare guardate qui, ci troviamo nella parte centrale ed eccolo qua, un tunnel grande, enorme senza possibilità di difesa di alcuna sorta state bene attenti, ok? perché questa è una di quelle linee di cui parlavo prima ce ne sono pochissime che possono essere utilizzate dai cecchini, ok? ma allo stesso tempo sono anche delle linee che sono difficilmente difendibili e attaccabili, ok? perché o i due cecchini si mettono in competizione per chi ha i riflessi migliori chi sente prima, chi si è posizionato prima o altrimenti difendere o attaccare queste posizioni così dirette è difficilissimo ed eccolo qua, il site B uno dei site che appunto rispetto al site A è così aperto da far paura quello che vedete qui, proprio sul mouse, ok? è proprio il site B e di site B di difesa essenzialmente non c'è moltissimo perché come vedete queste casse per via del loro colore capirete anche voi che se ci hai sparato attraverso i colpi passano e quindi l'unico posto dove potete piazzare in qualche maniera un pochetto meno indisturbati la spike si trova dietro questo muro capite che le opzioni tattiche in B sono molto diverse e molto limitate rispetto a quello che potreste avere in A ed ecco perché penso che il site B in sé per sé, per via della sua enorme apertura sia uno dei site più come potremmo definire? eccolo là, là potete metterlo dentro questa piccola insinatura sia uno dei meno difendibili che possiamo ottenere ma obiettivamente gli sviluppatori l'hanno creato così sappiate che è questo il problema più grande nella quale incorrerete quando entrerete in Fractures dopodiché guardate vedete altri tunnel, altri spazi l'unica opzione che avete a disposizione è quella appunto di utilizzare gli angoli i vari angoli che appunto avete qui come ad esempio potrebbe essere vi mettete qua, vedete che c'è questa parte metallica quindi potete in qualche modo fare un picco, tenere, botta per chi arriva da questa parte potete mettervi da questa per chi arriva dal tunnel appunto di questa direzione potete mettervi qua dove ho il mouse vedete che si muove per tenere appunto controllata un'altra posizione è l'unica opzione strategica che avete a disposizione inoltre come vedete e l'avevamo già visto e vi avevo già fatto anche dei piccoli richiami vedete di come è situato un po' su livelli ci sono questi validi slivelli in Valorant non ce n'erano così tanti o per meglio dire alcune mappe ne facevano utilizzo ma non così largo utilizzo ed è chiaro che la vostra mira improvvisamente in qualche modo deve essere sempre corretta in base al livello di altezza o di discesa in cui vi trovate ok? se dovete in questo caso vedete siete più alti del nemico che arriva è chiaro che voi dovrete inclinare un pochettino la vostra mira se voi dovete mirare da qua a qui su dovrete alzarla ragazzi sembra una cosa da niente ma è un piccolo movimento davvero molto 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 importante guardate questo spazio lungo ed è esattamente quello che vi avevo elencato prima come ottima linea di tiro dei cecchini pochissime casse un'altra linea dove non c'è niente non vi potete nascondere in nessun modo sulla destra vediamo se adesso il nostro amico ce lo fa vedere per piacere sulla destra qui come vedete c'è quella famosa porta che vi dicevo che vi permetterà di flancare nella parte sinistra oppure destra dipende dove lo vedete il site A sappiate che comunque fa rumore e come vi ho sempre detto invaloranti i rumori sono importantissimi vedete di come dovete stare attenti ad una parte alta ad una parte lunga e da una parte bassa potete stare attenti a tre posizioni ben differenti non sarà facile dominare questa mappa ok ed eccoci poi arrivati obiettivamente alla parte delle zipline l'ho già spiegato prima ve lo rispetto velocemente anche se i segnali sono chiari solo questa zipline vi permetterà di andare dall'altra parte dall'altra parte invece non ci sarà questa possibilità chi cazzo ti ha detto di cambiare la qualità come vi ho già detto sarebbe molto interessante provare a vedere se un player qui così può in qualche modo saltare e cambiare giro all'improvviso è da provare ok quando pro player o comunque si avrà a disposizione la mappa per tutti obiettivamente è una di quelle cose che dovremo assolutissimamente testare altra cosa come viene in cabo è che un player che si trova in questa posizione e l'altro sta per arrivare da questa lo vede ad una distanza davvero importante e dato che è abbastanza lineare e dato che i player di Valorant hanno diciamo una buona mira è molto probabile che se voi vi trovate qua e un player avversario si trova nel site avversario sappiate che morte giungerà molto 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 velocemente sotto non c'è nulla che vi salva e chi si trova nella parte centrale obiettivamente non vi può colpire ok sappiate un'altra cosa se incrociate un player proprio mentre uno va da una parte e uno dall'altra beh gli potete sparare continuiamo a vedere questa parte e queste parti dove si qua c'era quella bella linea di tiro di cui vi parlo qua c'è la zipline potrete fare norti abbastanza semplici ma non so se notate questa questa questo percorso che guarda non c'è niente non c'è niente per cui ecco che bisogna utilizzare l'angolo che è appunto qua sulla destra del nostro player e poi bisogna spostarsi velocemente verso questo angolo altrimenti qui si è delle prede davvero molto 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 facili come si è delle prede molto molto facili in questo site vedete quello che vi dicevo uno spazio molto ampio in mezzo c'è la parabola ma la parabola può essere colpita se per puro caso entrate troppo di fretta non controllate bene gli angoli non state attenti ai rumori non avete pazienza obiettivamente quello è un luogo dove non avrete nessuna protezione ed eccola qua un'altra salita ok un altro punto dove la vostra mira non può essere questa deve essere spostata verso l'alto cosa non da poco e altra cosa importante quando voi emergerete così quindi sarete qui in piedi immaginatevi di essere qui in piedi è chiaro che adesso vediamo è chiaro che guardate da questa parte da questa linea se voi ad esempio siete un player che si trova qui se alzate la mira siete dei bersagli molto 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 facili qui non avete un angolo l'unico angolo che avete a disposizione è essenzialmente questo hai detto niente ma ho detto tantissimo ho già parlato di mira ho già parlato di eventuali punti da mirare abbiamo parlato di i sight quale sarebbe meglio prendere dove è meglio mettere una spike gli angoli che devono essere utilizzati questi sali e scendi che obiettivamente vanno a cambiare in maniera importante il modo in cui siamo abituati a piccare i nostri avversari e di come ci stiamo spostando ad una velocità davvero assurda da una parte all'altra e possiamo fare anche un cambio veloce di sight in man che non si dica guardate siamo più o meno a metà circa meno quasi e siamo praticamente arrivati a ridosso della base della base nemica anche qui vedete poco pochissimo con cui ripararsi e poi abbiamo un altro problema se il nemico vi picca il nemico è alto fin qua non dove lui ha la mira vedete che lui mira quasi il soffitto e spara quasi al soffitto così non prenderete nessuno la vostra mira deve essere leggermente aggiustata anche se obiettivamente qualcuno potrebbe trovarsi dietro questo angolo dietro questo questo box e quindi capite che il vostro occhio la vostra mira la vostra in qualche modo percezione di dove andare dopo l'angolo dove andare a puntare cambia in maniera molto 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 radicale insomma che dire è una mappa meravigliosa incredibile stupenda molto diversa non c'è niente di tutto quello che abbiamo visto in Xbox e nelle mappe che abbiamo provato al day one qui in questa nuova mappa di Valorant per me anche solo questa lettura e abbastanza per poi buttarsi a capofitto nei gameplay ci vorranno davvero tanti game ci vorrà davvero tanta pazienza per poter domare tutte queste enormi differenze che gli sviluppatori hanno voluto apportare appunto in questa nuova mappa sono felicissimo di come sia avvenuto il video sono davvero felice che gli sviluppatori provino qualcosa di nuovo non solo lo stesso non grafiche solo diverse ma anche magari site posizioni idee strategie nuove Valorant indubbiamente è un gioco che sta andando molto forte e che dire questi video queste piccole guide per iniziare al meglio Fracture penso che saranno molto utili a tantissimi di voi e se così fosse ragazzi mi aspetto un vostro like e un vostro commento sarebbe davvero molto molto gentile in fin dei conti chi vi porta queste mappe e queste guide per principianti su Valorant solo qui su Sport e Tapation e io vi aspetto in un prossimo mega video mi raccomando non perdetevi i prossimi video ciao